SIGLA Qui è Gioia, che vi parla live dalla mente di Riley. Fatevi sentire... Ovvivo... Tristezza is in the house! Ecco, rabbia! Lasciatevi fare! Qui ci vuole il nostro paradenti, amici. Ecco, paura! Non è nostro! Disgusto. Felici di averla a bordo? La nostra ragazza cresce a vista d'occhio. Così? Dora in poi dovrebbe essere una passeggiata di... Ciao! Io sono ansia. Dove metto le mie cose? Una nuova emozione! Oh, mi dispiace. Vedi, noi volevamo fare una buona impressione. Che vuol dire noi? Io sono in media. Oh, guarda i tuoi capelli. Oh, sì, non provarci. Lei è Enouye. En... cosa? So che voi chiamate Noia. Come ti chiami, ragazzone? Lui è in barazzo! Benvenuto al quartier generale in barazzo. Oh, vuoi battere il pugno? No. No, dammi 5. Hai una mano bella sudata, amico. Ascolta, tutti abbiamo un lavoro. Io pianifico il futuro. Vuoi sederti con noi? Queste ragazze sono super cool! Non mostriamo troppo entusiasmo, però. Ci penso io. Ah, gioia, una curiosità. Forse io potrei... Grazie, non ora! Yeah, yeah! Figurati se questo ci segnerà per il resto della vita. Agliapienero! I cambiamenti spaventano. Facciamolo. Ehi, Riley! Ma ci servono nuovi amici o saremo sole al liceo? Fuori il vecchio, larga il nuovo! La vita di Riley richiede emozioni più complesse delle vostre. Ehi! Non puoi metterci da parte! Siamo emozioni represse! Povero Riley! Che l'operazione nuova, Riley, inizi! Andiamo! Riley ha bisogno di noi! Ti ho mai consigliato male finora? Molte volte... Devi ancora prepararti. Riley, che succede? Sono troppo orribile per andare al camp o da qualsiasi altra parte! Bene, un anticipo dei prossimi dieci atti. Stiamo forse sognando? Qualcuno mi dia un pizzico. Non stiamo sognando! Voglio creare l'ora!